La Piazza dei Mestieri di Torino ha ospitato il primo appuntamento pubblico dell'edizione 2017 di Piemonte Visual Contest. Dentro i dati, tra storytelling e tecnologie civiche, quando i dati raccontano storie e risolvono problemi, è stata l'occasione per approfondire la tematica di questa quarta edizione, il Novecento in Piemonte e le sue ricadute sul presente. Grazie agli ospiti che hanno partecipato alla serata, inserita nel programma nazionale della settimana dell'amministrazione aperta, si è parlato di dati aperti e cittadinanza digitale. Le iscrizioni a Piemonte Vizze sono aperte fino al 15 maggio.